Attenzione ragazzi, stiamo ai bordi delle corte. Il belga lo accogliamo con un bel applauso, prova a tentare da subito la fuga e un bel applauso allora. Vedete la velocità con la quale scendono, quindi facciamo veramente molta attenzione. Guardate come passano le macchine, stiamo veramente attenti. E allora avete visto, è in fuga questo belga che prova. E allora stiamo facendo un piccolo caso. Quindi facciamo particolare attenzione. Vi pregherei di rimanere sul marciapiede e dietro le corde agli altri. Grazie. Ecco che sta arrivando il resto del gruppo. Quindi facciamo attenzione, dietro, rigorosamente dietro. Spostiamoci gentilmente, li vediamo tutti. Facciamo attenzione, dietro. Ecco un bel applauso allora il resto del gruppo. Ecco che passano questi grandi campioni. Attenzione, facciamo attenzione, rimaniamo ognuno ai nostri posti. Un evento storico qui a San Conofrio, Giro d'Italia 2008. E allora, tra il tribunio generale, una grande manifestazione. Guardate a che velocità arrivano. Impressionante. Veramente impressionante la velocità che imprimono questi atleti. Facciamo attenzione che ancora c'è molta, molta gente che deve arrivare. Facciamo attenzione, vi prego. Alle 22, la seconda parte del piano bar musicale. Quindi vi aspettiamo in piazza numerosi nel pomeriggio. Grazie a tutti della partecipazione. e un grazie penso vada all'amministrazione comunale che ha permesso questa splendida giornata di festa alla consulta della situazione e alla consulta sportiva. Grazie di nuovo. E allora, ora vi lasciamo al ballo dei giganti. Grazie a tutti.